negli altri sono già avanti eh tanto dopo tirate non imbucare per forza se lo vediamo se non pianga è messo a fiume si bisogna tagliarla via andate a tirarla via un po' di un po' di un po' di un po' di uno Oh shit Ah almeno ci si fa se ti si gira sotto un secondo sei in terra figaro hai vinto come si è scavato lì? e si è incastrato appena appena se c'è un po' di dietro fa così si 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 ma adesso viene giù prossima quattro viene giù andiamo no vai facci sognare ok 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 no ok ok e ok e ok ok e ok ok e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.